ragazzi buongiorno oggi è la giornata della corda quindi il cosiddetto lavoro metabolico ma sarà una bella sfida l'ultima parte che vedremo per il momento poi questo buon riscaldamento e ci vediamo alla forza ciao 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 ragazzi la forza è dedicata alle spalle quindi bilancele avanti occhio alla tecnica in ogni caso qualsiasi domanda tu mi puoi sempre scrivere quindi guarda bene il movimento mi raccomando addome sempre chiuso forte ci vediamo al workout ciao ragazzi oggi l'ultima parte dell'allenamento e la sfida contro se stesse un giro secco 50 150 ripetizioni rispettivamente volvo da bo e push arco quindi chiudi forte l'addome se hai qualche domanda a me la scrivi sotto e noi ci vediamo domani alle latipene iscriviti al canale ciao 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 ciao